Salve a tutti, sono Laura Antichi, sempre nell'ambito della costruzione nei mondi virtuali e in OpenSIM. Stasera parleremo di come creare un seggiolino per conferenza. Vado nel menù cliccando sul suolo crea e creo una sfera. Ingrandisco questa sfera agendo con i tasti del mouse, CTRL, SHIFT. Alzo la sfera, questa sfera ora la vado a forare. E poi vado anche a scavarla con scava. La scaviamo circa 0,50, 49, 51. Poi ruoto questa sfera che ho creato con il tasto CTRL. Ok, la scavo un po' di più. E il foro lo faccio, lo allargo al massimo, 84, 89 circa. Poi vado a vedere la mia sfera di lato. La mia sfera che è stata tagliata di lato. La appiattisco un po', col destro del mouse modifica e quindi vado con il tasto CTRL, SHIFT. Ecco, la appiattisco un po'. Poi la inclino attraverso il menu di rotazione che si attiva dalla tastiera con CTRL per fare poi la seduta. Vado a girare, a ruotare verso di me questo seggiolino che ho creato. Ok, posso, potrei, lo lascio così, potrei ingrandirlo un po', potrei schiacciarlo un po', rendendolo un po' più ovale. Vado a creare ora un cubo che mi servirà da sostegno, quindi con il menu Crea, scelgo il cubo. Ok, il cubo lo... Lo allungo. Lo schiaccio agendo con i tasti CTRL, SHIFT. Lo schiaccio così. Poi, con il tasto CTRL, SHIFT, no, con il tasto semplicemente SHIFT faccio una copia di questo cubo. Ok, questo, quel cubo che ho appena creato lo tirerò dopo in basso. Innanzitutto schiaccio maggiormente il cubo che sta in basso, che così creo un cuscino da mettere dentro il seggiolino. Una sorta di cuscino. Quindi riduco... Beh, intanto lo lascio così, il cuscino. Con il tasto comunque, sempre SHIFT, CTRL, va bene, lo riduco. Sempre con SHIFT, CTRL, agisco su questo cubo appiattito. Così potrebbe andare bene. Adesso vado, sempre selezionando il cubetto della seduta, vado in generale e a effetto del click, siedi sull'oggetto. Ok, poi vado in contenuto, ho aperto un nuovo script, inserisco lo script della seduta, salva. Provo ora a sedermi sullo script per vedere se va bene così la seduta come direzione, oppure se per caso devo ruotare questo cubetto. E come potete vedere se avessi allontanato, dopo lo inserisco dentro. Mi pare che lo script seduta possa andare bene. Così. Allora, sempre facendo delle prove, poi vi dico... Alzati... Mi giro... E' sempre molto macchinoso. Vado a prendere il cubetto con la seduta che ho appena quindi costruito. Quindi lo vado a modifica, lo trascino, lo alzo, lo porto in avanti, finché non riesco a situarlo giustamente... Lo sposto esternamente, lo alzo un po', se no non riesco ad inserirlo. Ecco. Ecco. Devo ridurlo leggermente, rappresenta un po' il cuscino, un cuscino che è quindi appoggiato... Come vedete, potete poi appiattirlo, eccetera, perfezionando il tutto. Un cuscino. Mi sposto. Mi giro. Lo posiziono un po' meglio dentro. Lo potrei anche allargare un po' di più. E poi... Chiudo il menu costruisci. Vado a vedere l'effetto... L'effetto della seduta. E vedete che mi sono seduta sul cubetto. Non mi resta che abbastanza dritta. Quindi non mi resta da fare altro che inserirlo meglio. Quindi vado in modifica, sposto la finestra, lo abbasso, rigiro, chiudo il menu, e vediamo com'è andata. Direi che è andata bene. Mi sono seduta sul seggiolino. Abbastanza in modo dritto. Ok. Adesso mi alzo e vi faccio vedere che se per caso ci fossero dei problemi nella seduta. Quindi vado in modifica. Clicco sul seggiolino. Sul cuscino. Vado in modifica. Potrei andare a verificare nello script sia la rotazione. Correggendo magari la rotazione. sia il sit target. Per posizionare l'oggetto meglio rispetto alla X, la Y, la Z. Quindi posso agire anche da qui. Vi ho mostrato questa soluzione di verificare prima creando un cubetto. perché in questa maniera è facilitato quindi l'inserimento della seduta in maniera appropriata. Andiamo ora a sistemare il supporto del seggiolino. Prendo il cubo che avevo alzato in precedenza. Vado in modifica. Lo trascino in un punto appropriato. Lo calo sul terreno. Lo sposto in avanti. Ok. Così da dare una giusta collocazione al seggiolino. Alla sì, da questo solido. Ok. Posso anche creare un, ad esempio un toro. Vado in, quindi crea. Cliccando sul terreno. Cliccando sul terreno. Cerco un toro. Clicco qui. Ok. Il toro un po' quindi, come vedete, è grande. Quindi lo riduco. Per fare un anello di congiunzione, di sostegno tra il seggiolino e la base. potrebbe anche essere rimpicciolita un tantino. Quindi sposto il toro. Un attimo. Va bene. Lo lascio qua. Dopo spostiamo il tutto. Ecco. Sposto un attimo. Ok. E adesso vado a mettere qui un, magari un appoggia persona qua dietro. Posso creare una sfera. Esempio. Quindi. Crea. Vado a prendere una sfera. Clicco qui. Poi. La posizione in questo modo. La sfera va comunque rimpicciolita. Ok. Mi giro per poter operare. Trascino un po' in fuori la mia sfera. Con il tasto CTRL SHIFT. La piattisco per bene. La ruoto un pochino col tasto CTRL. Usando quindi la direzione. E vado a inserirla sul fondo della seggiolina. Magari. Posso. Anche allungarla un po'. Cliccando sul CTRL. Con il CTRL SHIFT. Sul quadratino rosso. E direi. Che. Non la devo portare in avanti. Sicuramente. Perché è rimasta in fuori. E' troppo ingombrante. Quindi la devo ridurre ulteriormente. La trascino in avanti. Vedete che bisogna guardarla proprio. Da tutte e due le parti. Da ogni parte. Perché il lavoro sia fatto bene. Mi sembra che non debordi da nessuna parte. Forse va trascinata ancora. Un tantino. Lungo. Ecco. E così. Definito. Praticamente. La struttura. Del mio. Seggiolino. Ora. Dovrò semplicemente. Dare la. Texture. A tutti gli oggetti. Allora. Eh. Alla base. Potrei dare. Semplicemente che è il cubo. E quindi è la base. Ma dopo nomino l'oggetto e tutto. Lo scrivo. Comunque base. Questo. Eh. Il cubo è che è la base. Vado in texture. Il colore. Posso scegliere. Un colore. Marron. Ok. Ok. Alla. Toro. Potrei. Dare. Quindi. Una texture. Tanto per cambiare. Per fare il colore. Eh. No. Adesso l'ho dato. Al. 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 Toro. Potrei dare. Un altro colore. Quindi. Clicco sul toro. E. Do come colore. Adesso. Qui il marron. Prima ho fatto il rosso. Va bene. Eh. Poi posso. Eh. Una. Mm. Texture. Al. Mio. Mm. Seggiolino. Che. Quindi vado in texture. Cerco tra le mie texture. Pele marroncino. Ok. Poi. Posso. Selezionare. Il cuscino. Posteriore. E. Scegliere. Una. Texture. Per questo cuscino. In texture. Texture. Scegliere. Un floral. Quindi a fiori. Così. Faccio ok. Così vado. A scegliere la texture. Per la seduta. Il cuscino di seduta. Texture. Quindi. Eh. Vado a cercare. Eh. Qui. Floral. Dove l'avevo messo. Ecco. Dovrebbe essere questo. Sì. Ok. Quindi anche qui ho messo lo stessa. La stessa texture. Adesso. Eh. Andrei. A scegliere la texture. Darei. Eh. Luminosità massima. Alla texture. Della pelle. Ecco. L'ho schiarita. Il resto. Mi sembra. Che vada bene. Anche così. Seleziono. La seduta. E vado in caratteristiche. Do un po' di flessibilità. E aumento. Magari. La. Eh. Elasticità. Ecco. A renderlo più elastico. Eh. Il cuscinetto. Della. Della seduta. Eh. Quindi. Mh. Posso. Eh. Scegliere. Come. Mh. Materiale. Plastica. Vabbè. Scelgo plastica. Così. Risulta. Un cuscinetto. Un po' più. Flessibile. Eh. Poi vado. A. Mh. Eh. 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 Selezionare. Tutti gli oggetti. Allora. Tutti gli oggetti. Si linkano. O. Selezionandoli. E andare. Eh. Poi. Nel tasto collega. Come faremo adesso. Quindi. Seleziono. La base. Da ultima. La sed. Eh. La seduta. Dove c'è lo script. Quindi. Quella del cuscino. Quindi. Seleziono la base. Shift. Seleziono. Il. Eh. Il supporto. Eh. Toro. Seleziono. Il. 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 Seggiolino. Seleziono. Il cuscino dietro. E. Seleziono. Poi. Il. Cuscinetto. Di. Seduta. E. Faccio. Collega. Avrei. Potuto. Eh. Collegare. Tutti. Gli. Elementi. Eh. Con. Il. Innanzitutto. Selezionandoli. Come ho fatto ora. E. Poi. Utilizzando. Il. Il. Tasto. La combinazione. I tasti. Controll. L. Verifico. Alcune. Cose. Innanzitutto. Vado. In modifica. Oggetto. Esposto. L'oggetto. Sul. Sul. Terreno. Magari. Mi sembra. Un po. Piccolo. Il. 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 Quello. Il. Divento. Il. Un. Attenu. Che. più ok così magari anche come sempre agendo con il tasto ctrl shift lo allungo un po' per farlo un po' più grande poi vado a verificare una cosa molto importante tiro via modifica parti collegate vado innanzitutto in generale a dare il nome all'oggetto quindi seggiolino conferenza vado a attribuirlo al gruppo condividerlo con il gruppo e poi è importante che chiunque possa copiare quindi permessi ed ho anche il permesso perché il gruppo di modificare di copiare l'oggetto quindi ho praticamente fatto tutto potrei vabbè per ridefinire il tutto potrei anche andare sempre in modifica parti collegate a dare un po' di luminosità maggiore alla pelle vediamo solo data quindi questo modifica parti collegate quindi vado in texture luminosità si l'avevo già dato la di luminosità massima quindi tutto a posto poi vado anche a verificare un'altra cosa cioè vado sempre in modifica e non mi ricordo se l'ho detto comunque per quanto riguarda modifica parti collegate nel seggiolino la parte quindi sul seggiolino vado a verificare di aver messo effetto del click siedi sull'oggetto di default invece ci tocca l'oggetto noi dobbiamo mettere siedi sull'oggetto così compare il seggiolino della seduta tiro via parti modifica parti collegate chiudo e ecco mi sono seduta come vedete sul sull'oggetto sul seggiolino ecco questa seggiolino per videoconferenza con seduta vi saluto